Coreografie, musica, proiezioni e sketch per un'anticipazione dei corsi mascherati 2025. Appuntamento da non perdere per i nostalgici del Carnevale, sabato alle 21 alla Cittadella con la presentazione dei bozzetti, delle opere allegoriche protagoniste della prossima edizione della manifestazione Via Regina più amata e conosciuta nel mondo. Contestualmente sarà inaugurata Oblò, la nuova sala espositiva che arricchisce il Museo del Carnevale alla Cittadella e che raccoglie Carnival Art, la collezione d'arte contemporanea di proprietà della Fondazione Carnevale. La mattina dalle 10.30 e il pomeriggio dalle 18 sarà possibile partecipare ai laboratori creativi dedicati alla cartapesta. Domenica invece alle 20.30 appuntamento con le Disavventure di Pinocchio e i burattini dell'artista Jonathan Francesconi. Il gran finale dell'edizione 2024 del Carnival Summer Show sarà affidato al solito dandy, terzo classificato ad X-Factor che si esibirà in concerto nella suggestiva cornice della Cittadella. La notte dei bozzetti sarà trasmessa domenica 11 agosto alle 21.45 su Noi TV.